Si è aperta il 17 giugno con la misura numero 1 per il sostegno all'impresa e agli operatori del turismo la piattaforma 210, attraverso la quale cittadini professionisti e imprese possono presentare domanda di contributi, la maggior parte dei quali a fondo perduto, come sostegno dopo la pandemia da Covid-19. Sono 10 ad oggi le misure aperte e accessibili all'Inc. Quello che vi stiamo mostrando è il primo dei report con cui la Regione Marche informerà quotidianamente sullo stato dell'arte delle misure. Anche in questa fase, afferma il Governatore Luca Ceriscioli, riteniamo che sia importante informare i cittadini in tempo reale e in modo trasparente, come abbiamo fatto per la gestione di tutte le fasi della pandemia. Ora è il momento di sostenere la nostra Regione concretamente per la ripresa. Molti cittadini, imprese e professionisti stanno già presentando le loro domande di contributo online. Il nostro impegno, conclude Ceriscioli, è quello di procedere velocemente per poter liquidare i contributi in tempi brevissimi. Ancora una volta sono sicuro che insieme ce la faremo.